Il cone inglese è uno strumento a fiato che fa parte della famiglia dei legni, che è costruito per lo più con il legno d'ebano. Il cone inglese è costituito da tre parti principali, la sezione superiore, la sezione intermedia e la campana. Il cone inglese, come l'oboa, ha un'ancia doppia, che si collega al corpo dello strumento attraverso una S. Sulla sezione superiore ed intermedia abbiamo la maggior parte delle chiavi. A differenza dell'oboe, sul cone inglese le chiavi sono più distanti tra di loro e quindi le ditteggiature sono più scomode. Oltre che per la maggiore lunghezza rispetto all'oboe, il cone inglese si distingue per la forma della campana, che contribuisce al timbro caratterizzante dello strumento. Aumentando le dimensioni rispetto all'oboe, il cone inglese è anche più pesante. Per distribuire meglio il suo peso, ci serviamo di un collare, che si aggancia allo strumento tramite questo anello. Aumentando le dimensioni rispetto all'oboe.